Ma... ma sei un gattino? Ma come hai fatto da quella palla a trasformarti in un gattino? No, ma dove sono? Cosa? Ma come faccio a parlare? Oh! Oddio, ma parli? Eh, lo so, ma è una cosa strana anche per me. Non so come faccio a parlare. Eh, stammi lontano, potresti essere radioattivo che parli. Come hai fatto a venire qui? Non lo so, ho visto un portale, ci sono entrata, e poi mi sono ritrovata chiusa in una palla. E poi tu l'hai vista e ho sentito una forte scossa, poi ho visto una luce e mi sono... liberata, ecco. Meno male, lì non respiravo. Comunque... Non mi vuoi fare del male, vero? No, tranquilla, sono brava. Come fai a parlare? Boh, si vede che quel portale mi ha reso magica. Tu chi sei? Io sono Giulie. E tu chi sei? Io sono Rosy. E non lo so, io prima ero a casa con i miei padroni, non so perché. Sono nata in giardino e ho visto un portale. È strano, perché anch'io ho visto... Cioè, io in realtà il portale l'ho trovato nella borsa. E... dove siamo? Non lo so. Siamo... non lo so. Qua è tutto gigante. E... non so, è un po' che sono qui che esploro. Ho già esplorato tutto... Ho esplorato sotto, che era quasi tutto grigio, ho visto Lella e Sissi. Poi ho esplorato sopra, ho visto Nocciolina, Pulce e Pompelmo e Omsa, quanto pare, ho sentito dire. E di nuovo Lella e Sissi, che sono creature. Pulce ti somiglia un po'. Tu sei un gatto, no? Sì, Pulce penso sia un gatto. Comunque... che stavi facendo? Stavo esplorando e ora, se vuoi scusarmi, io devo continuare. Ehm... posso venire con te? Cosa? Stai scherzando? Perché? Noi non ci conosciamo. Vabbè, ma io sono solo una gattina, ho paura a stare qui da sola. Dai, ti aiuto a esplorare. Non ti chiederò di rifare tutto, voglio solo fare dove non hai ancora visto. Mi dispiace, ma io mi fido solo delle mie amiche e non di un gatto parlante. Chi si fiderebbe di un gatto parlante? Vabbè, ma io sono buona. Ti posso aiutare da eventuali pericoli? Io ho le unghie e so saltare molto lontano e anche correre molto veloce. Ah, va bene, ma solo perché così la smetti di rompere. Dai, scendiamo da qui. Come si fa? Si scende qui. Forza, vieni. Ehi, sta calma, io qui non ci sono mai venuta. Ecco, e poi si scende qui. Come hai fatto? Da dove sei passata? Ho fatto un salto? Non lo sai che i gatti erano sempre in piedi? Ah ah, che battuta spiritosa. Dai, andiamo. Arrivo. Oh, e dobbiamo fare silenzio, eh? Qui ci sono delle grandi creature che non ci devono vedere perché ci potrebbero fare del male o rinchiuderci, ok? Va bene. Spero che diventeremo amiche perché al momento non mi sembra molto simpatica. Oh no, qua è chiuso. Come facciamo ad entrare? Vediamo. No, non si spinge, si tira. Ah, sinistra. Dai, andiamo. Wow, stanno già parecchie cose. Qui non c'è molta roba nuova. C'è un grande coso bello. Mmm, quel coso mi sembra di un materiale diverso. Andiamo a vedere. Ma sei sicura che qui non ci siano quelle grandi creature? Sì, le sentiremmo. E poi se ci fossero, ci possiamo nascondere, tanto siamo piccole. Va bene. Eh, mi sembra di un altro materiale. Questa cosa è morbida come quella cosa di là. Si capisce niente. Continui a dire quella cosa, cosa, cosa e cosa. Avranno dei nomi queste cose? Beh, somigliano un po' ai miei oggetti nella mia casa LOL. Però sono molto più grandi e non lo so, li confondo. Certi sono proprio strani, non ho idea. Tipo questa roba morbida, non lo so. Forse è un posto dove si dorme. Perché io a casa ho un letto. Forse ho letto questo. È probabile. Ma quell'essere là? Hm? Potremmo chiedere a lui o a lei. Hm, buona idea, andiamo. Sì, ho fatto una buona idea. Eh, per ora è venuta anche a me, quindi è la mia buona idea. Certo. Eh, scusami. Tu, Giallo. Eh, come ti chiami? Eh, soprattutto, sei vivo? Hm? Oh, sì, mi chiamo Winnie the Pooh. Voi chi siete? Siete amiche di Francesca? Ancora con questa Francesca? No, non la conosciamo. Chi è Francesca? Una che a quanto pare è stata intrappolata anche qui, ma poi se n'è andata con i suoi amici. Pulce ha detto che è rimasta solo la sua moglie, che è una gatta arancione, che si chiama Fragulina. Comunque, eh, sai dirci come tornare a casa? Siete per caso arrivate con un portale? Sì. Beh, dovrete tornare in alto. Eh, qui c'è gente magica. Tu sei magico? No, purtroppo no. E poi devo restare qui, sennò i miei umani si accorgono. Eh, dovete fare da sole. Wow, ma che gentile, non ti rivolgerò mai più la parola. Wow, neanche un ringraziamento. Scusate, io un po' fatta così. Grazie. Oh, comunque sono... Siamo Rosie e Julie. Ok. Continua. Ragazzi, l'episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se vi piaccio. Vi aspettavate che venivo prima io. Vi piace il mio nome. E iscrivetevi al canale, che ai 20 iscritti faremo un video super speciale. Ci siamo accorti che ci sono iscritte altre due persone. Vi ringraziamo tanto e benvenuti sul nostro canale Nuove Stelline. E vogliamo scusarmi se ogni tanto si vede un po' la mano. Perché loro... Io le devo muovere per casa se sono piccole. Soprattutto lei che è minuscola. È super difficile muoverle. Quindi, diciamo, così. E condividete il video oppure spargete la voce. Ciao! Oh, e volevo dire se ieri non sono usciti i video. Perché non sono riuscita a caricarli. Non so, c'era un problema di connessione. Però andranno online oggi, spero. Ciao!